Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube, FIFA 22 è ormai uscito, siamo entrati nel pieno della stagione in quello che secondo me è il periodo più bello di tutto l'anno perché infatti ci andiamo a costruire le prime squadrette, ci facciamo i draft, cerchiamo di capire il gioco gioco sul quale arriveranno video settimana prossima dove vi dirò un po' la mia, moduli, tattiche, telecamere, controller perché c'è da parlare parecchio su questo FIFA 22, però è il periodo più sicuramente entusiasmante e pieno di cose vuoi o non vuoi si porta con la scarica di adrenalina dell'inizio che insomma è tipica e in particolar modo assieme al rilascio di FIFA 22 sono iniziate a uscire anche ultime e definitive informazioni su quelle che sono le modalità di riferimento, ossia la Weekend League e le Rivals in particolar modo in questo video faremo riferimento anche alle Rivals ma ci andremo a concentrare in maniera particolare sulla Weekend League, difatti è stata totalmente rinnovata come ci aspettavamo però è stata resa molto più interessante e molto più alla portata di tutti soprattutto per quanto riguarda il sistema dei premi detto questo senza perderci in chiacchiere passerei subito sulla schermata perché ho delle slide apposite che ci permetteranno di capire per bene come funziona il tutto quindi eccoci qui sulla schermata Instagram di Foot Universe pagina con la quale insomma sapete che collaboro anche tramite John Fondatore hanno rilasciato appunto un post che permette di chiarire la situazione Weekend League però visto che comunque mi avete detto che non avete capito delle cose eccetera eccetera o qualcuno si era perso questa roba ho pensato giustamente di portarvi un video per informarvi come funziona la Weekend League? La Weekend League sarà composta di tre stage il primo stage comprende il giocare le Rivals giocare le Rivals ci permetterà di acquisire 1200 punti per qualificarsi ai playoff della Weekend League ovviamente i punti variano a seconda della vittoria, dei pareggi e delle sconfitte e a seconda di quella che è la divisione nella quale stiamo giocando quindi fare questi 1200 punti sarà molto più difficile per chi ha in divisioni basse mentre sarà molto più facile per chi ha in divisioni alte basteranno magari poche vittorie ad aiutate anche da qualche pareggio questo durante la settimana si accede dunque a quelli che sono i playoff della Weekend League playoff della Weekend League che si vanno a giocare sempre durante la settimana servono 24 punti per qualificarsi alla FUT Champions le finali del FUT Champions che vanno conquistati in 9 partite come funziona? Quindi si hanno queste 9 partite da giocare e ogni vittoria da 4 punti mentre ogni sconfitta da 1 punto quindi cosa vuol dire? che per poter accedere alla Weekend League ogni 5 vittorie e 4 sconfitte raggiungiamo questa quota 36 e quindi siamo qualificati dovrebbero esserci 7 tentativi a stagione per provarsi a qualificare la stagione viene intesa quella del pass quindi in teoria dovrebbe esserci un tentativo a settimana per poter accedere alla Weekend League però questo non è ancora una cosa confermata qualcuno di voi magari storceva un po' il naso perché diceva cavolo è troppo poco cavolo rischio di rimanere fuori dalla Weekend League una settimana 2-3 se magari non ho ancora capito il gioco eccetera eccetera allora il discorso raga per me è semplice perché dovete calcolare che il matchmaking dei playoff non è basato su quella che è la divisione nella quale ci troviamo in quel momento perché pensate ad esempio un giocatore molto forte che si trova magari nella divisione elite la migliore quindi dove ci sono tutti i pro player giocatori fortissimi dover fare 9 partite per qualificarsi alla Weekend League contro giocatori di questo calibro rischia di rimanere fuori quindi fondamentalmente è un matchmaking variegato che dipenderà magari da quelle che sono le vittorie all'interno dei playoff sarà abbastanza anche bilanciato e diciamo che fare 5 vittorie e 4 sconfitte diciamo che è la media di una vittoria e mezzo per una sconfitta quindi secondo me è un qualcosa di molto molto fattibile molto molto accessibile visto che il sistema sarà basato per cercare di far partecipare quasi tutti altrimenti la Weekend League sarebbe limitatissima come utenza e non ne verrebbe fuori niente di bello quindi non disperate se dovesse essere confermata questa cosa di un solo tentativo a settimana perché non è così negativa come può sembrare anche nelle finals quindi una volta che si arriva nel fine settimana e si accede appunto alla Weekend League vera e propria che si giocherà venerdì, sabato e domenica fino a lunedì mattina alle 6, 7, 8 come è stato in questo periodo cosa succede? abbiamo 20 partite quindi confermato la riduzione delle partite della Weekend League durante il weekend ogni vittoria vale 4 punti ed ogni sconfitta vale 1 punto non esistono più le fasce oro, fuoriclasse, argento, eccetera ma ogni livello ha un numero determinato di punti per essere raggiunto quindi come funziona? non ci sono più questa sorta di classifica, di sistema a classifiche ma è semplicemente un sistema a punteggio e com'è basato questo sistema a punteggio? in 6 livelli si parte dal livello 6 che è il livello più basso fino ad arrivare al livello 1 il livello 6 necessita di 8 punti quindi per esempio vanno bene sia 2 vittorie sia una vittoria e 4 sconfitte o anche paradossalmente 8 sconfitte già per raggiungere quello che è il livello 6 e dopo vedremo i premi per quanto riguarda il livello 5 invece serve il doppio quindi ad esempio servono 16 sconfitte per arrivare già al livello 5 che vi dà comunque dei buoni premi per quanto riguarda il livello 4 invece servono 32 punti quindi ad esempio 4 vittorie e 16 sconfitte quindi vedete che è molto bilanciato il sistema dei premi anzi dà veramente una grossissima mano a quelli che magari fanno un po' più di fatica e comunque sono riusciti ad accedere alla weekend league il livello 3 44 punti quindi necessitiamo di 8 vittorie e 12 sconfitte per poterlo raggiungere il livello 2 con 56 punti 12 vittorie e 8 sconfitte per poterlo raggiungere e infine abbiamo il livello 1 quello che potremmo un po' definire l'elit 1 del passato 16 vittorie e 4 sconfitte per poterlo raggiungere quello che a mio avviso è molto molto interessante è il sistema dei premi che è stato molto rinnovato e data questa divisione a fasce di punteggio che è molto più accessibile e variegata non ci sono questa grossa differenza all'interno delle varie fasce dei vari step da raggiungere ci sono dei premi che sono molto buoni secondo me e che permetteranno di poter avere un'esperienza molto molto più onesta da parte di tutti quanti di fatti andando a vedere per quanto riguarda il rank 1 quindi il migliore possibile si andano a prendere 3 player pick quindi confermati player pick un pacchetto ultimate 2 pacchetti da 3 if quindi sparisce il pacchetto da 11 if purtroppo pace all'anima del contenuto del giovedì 2000 punti qualificazione per la food champions e 105.000 crediti una parentesi su quelli che sono i punti di qualificazione della food champions perché una cosa che non è stata ancora chiarita è se questi servono a riqualificarsi ai playoff quindi vanno rifatti di settimana in settimana o ti permettono di riqualificarti già la prossima weekend league bypassando i playoff io credo che i playoff dovranno essere rigiocati questo perché la EA ha voluto in qualche modo dare un senso alle partite che vengono fatte in settimana in maniera tale da dare un qualcosina in più che potesse diversificare dalle solite rivals e dalle solite battles e inoltre si prendono dei premi anche per quelli che sono i risultati nei playoff quindi un ulteriore sovraccarico settimanale di premi e di possibilità di poter far avanzare anche chi magari non ha la possibilità di poter mettere dei fifa points per quanto riguarda il grado 2 abbiamo 3 pick ancora una volta un megapacco, un pacchetto da 100.000 e un pacchetto da 3 if nonché in questo caso ancora una volta i famigerati 2.000 punti per quanto riguarda il grado 3 abbiamo 2 player pick, un pacchetto da 100, un pacchetto if e 35.000 crediti e 1.500 punti per qualificarti alla weekend league il rank 4, 2 player pick, un giocatore aurorari, un giocatore prime aurorari 2 pacchetti mega, 1.000 punti per qualificarti alla weekend league e 15.000 crediti per quanto riguarda invece gli ultimi 2 rank, quelli tra virgolette più bassi abbiamo il rank 5 ovvero 2 player pick, un giocatore premium gold, un prime gold player e un jumbo premium gold pack nonché 500 punti per riqualificarsi credo appunto ai playoff come vi dicevo e infine abbiamo il rank 6 ovvero un player pick, un 2 jumbo premium gold pack un prime gold players pack e 5.000 crediti quindi come potete vedere si dà la possibilità a tanti giocatori di poter accedere magari a quello che è il famigerato pacchetto da 3 if che prima potevano portarsi a casa solo i giocatori che arrivavano a fare fuori classe quindi una possibilità di gustare dei premi che prima sembravano irraggiungibili per una fascia molto 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 più ampia di utenti e credo che alla fine sia una scelta abbastanza azzeccata da parte di A perché la weekend league era stata tanto criticata negli ultimi anni come la modalità dei pro, modalità dell'estremo tryharding eccetera eccetera questo probabilmente forse permetterà di potersela godere un po' meglio sotto tutti i punti di vista quindi per quanto riguarda le novità della weekend league fondamentalmente è tutto quanto ragazzi mi raccomando ci tengo che mi facciate sapere la vostra opinione nei commenti perché diciamo che è una sorta di svolta veramente radicale su quello che è il sistema che fino ad ora avevamo conosciuto quindi fatemelo sapere nel box qui sotto vi ricordo che come al solito in iscrizione trovate non solo il link alla piattaforma viola dove streamo praticamente tutti i giorni il link al gruppo telegram aperto a tutti dove abbiamo una bella community nella quale chiacchieriamo, ci confrontiamo eccetera eccetera e in più trovate anche quelli che sono i link di tutti quanti i partner istangaming se volete FIFA Points a prezzi scontati eccetera eccetera quindi raga come al solito per me è tutto non mi resta altro che salutarvi un salutone dal vostro Riberoski e bella alla prossima ciao ciao